Gli aspetti tecnici e giuridici al traffico internazionale di stupefacenti, le nuove tecniche di investigazione e il riciclaggio di capitali sporchi. In tempi di crisi economica le mafie si riorganizzano puntando sulla droga per fare profitti. Di politica, di sicurezza e contrasto al narcotraffico si è discusso alla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo in occasione del dibattito conclusivo di IFO. Il progetto di alta formazione è promosso dalla Fondazione Rocco Chinici insieme alle Università di Palermo e Salamanca, che ha coinvolto un centinaio di rappresentanti delle forze dell'ordine, giuristi siciliani e spagnoli. Attraverso la ricerca abbiamo anche cercato di chiedere ai diretti interessati, cioè agli esponenti delle forze dell'ordine, quali potessero essere i loro fabbisogni formativi, perché poi il corso ha riguardato proprio gli esponenti delle varie forze di polizia, quindi la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, anche le forze della Polizia Carceraria. La cooperazione tra forze di polizia e magistratura di diversi paesi potrà favorire un rapido smantellamento delle reti criminali, insieme però ad una revisione dei reati più che mai urgente. Consumo, traffico locale, traffico internazionale. È necessario chiaramente da un punto di vista normativo, già tanto si è fatto per collegare le varie indagini a livello internazionale. L'Interpol, le norme che mano a mano sono modificate, Palermo è la nostra provincia, la diffusione chiaramente c'è, il contrasto è molto forte. Devo dire che questo per l'aspetto della repressione, la prevenzione è un campo molto importante dove grande parte sta operando la scuola, devo dire, come sempre, oltretutto. Non solo le organizzazioni laiche, ma anche le organizzazioni religiose. Non solo le organizzazioni, non solo le organizzazioni, non solo le organizzazioni,